Amici di Bazz, ci troviamo ad Alessandria in compagnia dell'economista Nino Galloni. Siamo alla tagliere del pelo dove il professore ha tenuto un dibattito presentando il suo nuovo libro. Professore, partiamo dalla copertina. Sulla copertina si vede l'immagine di uno spartano che combatte il mostro mitologico Idra a mille teste con sopra raffigurate refigie del dollaro. Stiamo vivendo un periodo di de-dollarizzazione e di de-americanizzazione, si può dire. Se da un lato gli Stati Uniti stanno perdendo quello che era il potere, l'eginomonia, dal secondo dopoguerra ad oggi, dall'altra sta nascendo, si sta facendo sempre più strada, un bolo alternativo a quello atlantista di paesi, si può dire, antagonista, ovvero quello dei BRICS. Come dovrebbe rapportarsi con questa nuova realtà il nostro paese, secondo lei? L'ipotesi che io svolgo nel mio libro è che ci sarà una tripolarizzazione del pianeta. Da una parte è sempre più debole il mondo a guida americana, che poi finirà per corrispondere esclusivamente o quasi esclusivamente a un'Europa sempre più debole. Al centro i BRICS o più esattamente ciò che è riuscita ad aggregare la Cina e la nuova emergenza dell'alleanza fra Russia e India, che avrà il suo terreno di successo oppure di smentita delle mie previsioni in Africa. Quindi rispetto a questa tripartizione delle sfere di influenza, io credo che noi dovremmo, senza litigare con nessuno, sapendoci barcamenare su tutti e tre i fronti, però aprire un dialogo particolarmente significativo con la Russia e con l'India. Perché è in Africa che si decideranno certe prospettive e l'Italia in Africa ha ancora la possibilità di giocare un ruolo di snodo fra nord e sud che è fondamentale e in questo sarebbe complementare ai russi e agli indiani. Oggi è la vigilia del primo maggio, la festa dei lavoratori, e tenendo conto che fino a qualche decennio fa il nostro paese era la quarta potenza industriale, come vede lo stato di salute oggi del mercato del lavoro in Italia? Diciamo che siamo arrivati al punto che non c'è molto da festeggiare perché il lavoro ha perso tutti quei diritti che aveva acquisito in 150 anni di lotta perché i sindacati e i partiti di sinistra si sono volti a svolgere altre attività, altri mestieri, a proteggere certi tipi di minoranze, hanno abbandonato la grande massa dei lavoratori che poi come elettorato è rifluita verso quelle che una volta chiamavamo le destre. Quindi è chiaro che l'unico modo che abbiamo per uscirne vivi è trovare la formula di introduzione di una moneta non a debito, cioè parallela nell'economia per rilanciare gli investimenti pubblici, nello stesso tempo sviluppare quelle attività di cura delle persone, dell'ambiente e del patrimonio esistente che porterebbero in atto i livelli occupazionali e quindi anche i salari e poi come dicevo prima ribadire un ruolo internazionale dell'Italia soprattutto nel Mediterraneo. A proposito di mercato del lavoro e immigrazione, pensa che ci sia un utilizzo strumentale dei flussi migratori per andare a modificare il mercato del lavoro? C'è di tutto, ci sono fenomeni misteriosi perché non si sa come gente che non ha 4 Euro per pagarsi le cure della malaria, poi ne trovi 4 mila per transitare per l'Italia perché poi l'obiettivo della gran parte di questi immigrati anche economici è quello di raggiungere il centro Europa. Poi c'è sicuramente un effetto di distorsione nel mondo del lavoro che ha consentito per esempio alle arance siciliane di tornare nei supermercati da qualche anno perché il costo della manodopera per raccoglierle si è abbassato e quindi le nostre arance sono tornate competitive nei confronti di quelle che venivano da altri paesi e che inondavano i nostri supermercati a prezzi bassi seppure a qualità decisamente inferiore a quelle siciliane o calabresi. Quindi ci sono tutti questi fenomeni, compresa l'ipotesi di una Italia diversamente rappresentata in termini di cittadinanza da gente che viene fuori dall'Italia, che non è nata in Italia e sono tutti argomenti di cui dovremmo occuparci. Non si può accogliere tutta la gente ma non si può neanche rispingerla. Bisogna trovare delle altre formule che sempre ribadendo il principio fondamentale del rispetto dell'essere umano però non pregiudichino il futuro del paese. Grazie